Non è ancora tornata alla normalità l'erogazione idrica nelle contrade Isabella e San Calogero. Serbatoi sempre più vuoti da quel primo maggio in cui l'incendio divampato ai piedi del Monte Cronio danneggiò la condotta di approvvigionamento. Sono trascorsi quindi più di dieci giorni dall'ultimo turno. Della faccenda si era interessato giovedì scorso anche il sindaco della città Fabrizio Di Paola, annunciando che sarebbe servito qualche giorno per risolvere il problema. Siamo adesso a sabato e ancora non una goccia d'acqua ha raggiunto le cisterne dei residenti di Isabella e San Calogero. Zone che da sempre però hanno sofferto un'erogazione dell'acqua altalenante, con turnazioni non rispettate o insufficienti. E non sono le sole in città a lamentare una situazione analoga. Esasperate il suo piede di guerra anche gli abitanti di un altro quartiere, quello della Rocca dei Fiori. Anche qui la situazione acqua è critica tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva. I turni di erogazione non vengono rispettati nemmeno qui. Ad aprile l'ultimo approvvigionamento risale al 28, dopodiché il successivo è stato registrato il 4 maggio, a distanza quindi di una settimana. Dal 4 maggio poi niente acqua fino alla scorsa notte, lasciando i residenti a secco per otto giorni. Turno quest'ultimo durato anche meno di un'ora. A niente sono valse le lamentere dei residenti con gli operatori di girgenti acque. I fontanieri più volte si sono recati sul posto, tamponando con alcuni interventi che non si sono rivelati risolutivi, poiché, a quanto pare, il problema sarebbe legato proprio alle condotte, ormai vetuste e dalla portata ridotta, probabilmente perché al momento della loro posa a Niorsono dovevano approvvigionare un numero molto più limitato di abitazioni rispetto al presente. Una situazione quindi non di semplice risoluzione, che crea disagi enormi a chi vive nel quartiere, costretto di tanto in tanto a fare ricorso ad autobotti private. Negli ultimi mesi pare un sistema fosse stato trovato, ma nell'ultimo periodo la turnazione è tornata ad essere settimanale quando va bene. Ed a nome di tutti i residenti di Rocca dei Fiori, un abitante del quartiere, Mimmo Butera, si è fatto più volte portavoce della situazione, non solo con Girgenti Acque, anche col prefetto tramite comunicazioni scritte. Butera che oggi chiede un incontro diretto con Nicola Diomede per tentare di trovare ancora una volta una soluzione alla faccenda.